Guardiano! Guardiano, mi ricevi? Siamo qui, Ikora. Tornate su Marte. Tornati. Da dove? Dal trono mondo di Savatun. Lo so, avremmo dovuto farci sentire, ma avevamo Savatun sottotiro. Poteva essere la nostra unica occasione. Più che comprensibile, non è da Savatun lasciarsi intercettare così facilmente. C'è... dell'altro. Prima di lasciare la nave ci siamo imbattuti in uno dei suoi cavalieri e... Aveva uno spettro, Ikora, come qualsiasi portatore di luce. Uno spettro. Un cavaliere con uno spettro. Ma significa... Che Savatun ha rubato la luce. Ma è impossibile, vero? Impossibile? Con Savatun niente è impossibile. Quasi. Impossibile? Grazie a tutti.